Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi siamo qua con il Landini 5005 con braccio tagliarive ferri. Ovviamente per farvi vedere la lavorazione nel dettaglio andrò a utilizzare il mio supportino magnetico per GoPro, appunto molto molto comodo. C'erano tanti curiosi che mi chiedevano continuamente come si facesse un supporto del genere. E allora ho deciso di fare un video che trovate in alto a destra in cui vi spiego come costruirvi un supporto del genere. Oltretutto posso anche costruirvelo in caso qualcuno fosse interessato, ma scrivetemi su Instagram e vabbè. In ogni caso leggete tutta la descrizione perché vi dico già che ci sarà tanto rumore, quindi non parlerò molto, metterò la cam fissa magari per far vedere bene il lavoro, come avevo già fatto. Se volete informazioni sul trattore e sul braccio tagliarive trovate un trattor vlog in cui ho pulito le rive della mia cava. Oltretutto trovate anche in descrizione tutti i dettagli, sempre in ogni tipo di trattor vlog o video che sia. Qua ragazzi ho questa pistola che appunto ha anche l'attacco magnetico per poterla appoggiare da qualche parte. E la mettiamo qua, spero si veda, sì si dovrebbe vedere, a posto. Allora ho questa testina che ho comprato da poco e la sto provando. E che dirvi ragazzi, ve la consiglio, praticamente voi in questa posizione, questa qua, inserite l'ingrassatore. Così lo chiudete, adesso vi faccio vedere, e lei non si stacca più. E poi avete anche uno sgancio rapido per poter sganciare l'ingrassatore. Ora vi faccio vedere, appunto, così, appunto, tutta aperta, inserite l'ingrassatore, così chiudete, tac, e qua è bloccato. E voi potete pompare senza nessun tipo di problema. Però qua, ragazzi, c'è un altro tipo di problema, che è finita la cartuccia, quindi devo cambiarla. Che goduria! Ve lo faccio vedere la sostituzione della cartuccia, ma no dai, taglio e ci rivediamo con la cartuccia nuova. Non è un mio video se non c'è un gatto, ragazzi, tutte le volte. Là addirittura c'è uno che si arrampica sulla pianta, vabbè. Sì, sì, ciao, sempre, sempre, lei vuole essere sempre il protagonista di tutto. Poi, a rompere le cosiddette, si mettono in mezzo anche cartucce difettate, ragazzi. Che si toglie la pellicola, no? In stagnola dovrebbe venire via tutto, e invece rimane la plastichina. Ehm, vabbè, ragazzi, vabbè. D'altronde l'agricoltura è fatta di questo, mi iscrivete in tanti. Giuliano, come si fa a diventare un agricoltore? Giuliano, ma è difficile. E non è tanto difficile andare sul trattore, ragazzi, è difficile tutto quello che c'è attorno, ovvero rotture di scatole, tipo questa, soprattutto la burocrazia, ragazzi. Quindi, insomma, fate attenzione prima di scegliere. E soprattutto i prezzi di mercato, qui. Poi noi andiamo a vendere le cose. Ok, dovremmo esserci. Bene. Mettiamo la cartuccia qua. Si avvita. Si è scritto speedy, ragazzi, su sta cartuccia, ma... Se ti capita la cartuccia fallata, altro che speedy. Allora, forse riusciamo ad andare a lavorare. Bene, uno è fatto. Andiamo a fare quello del motore. Per chi si stesse chiedendo se col magnete ci si può appoggiare, sì, lo sto facendo, ma... Mmm... Meglio di no, non è che sia proprio tutta sta gran... tecnica. Ok, e quattro pompate sui rulli. Metto a posto la pistola e poi partiamo. Poi, un bel controllino dell'olio non fa mai male. Qua sembra essere a posto. Ritentiamo. Sì, dai, siamo a metà livello. Ragazzi, ha i suoi anni, ha le sue ore e comincia a mangiare leggermente. Oltretutto vedete un po' di sporco perché la guarnizione del coperchio delle punterie è che perde un pochino. Poi, per chi se lo chiedesse, anzi, è passato circa un anno da quando ho fatto lo scorso trattor vlog su questo attrezzo e almeno in 50, penso, mi avete chiesto appunto come si costruisce, come si fa questo comando che ho fatto con l'elettrovalvole. Appunto, nello scorso trattor vlog su questo attrezzo io avevo detto che avevo fatto, per comandare il tutto, un sistema con delle elettrovalvole e due levettine. Il vantaggio di fare una cosa del genere è sicuramente la velocità nell'operatività e i comandi rimangono sempre morbidi. Gli unici svantaggi sono, vabbè, il costo, che vabbè, quello è relativo. Secondo me un'applicazione del genere vale i soldi che costa e l'altra parte negativa è che i comandi sono on-off, quindi flusso 0, flusso 100. Non c'è una proporzionalità che si può avere con una leva. Certo, ragazzi, che da avere 6 leve per tutti i movimenti a due levettine che si muovono con un dito, molto meglio così. Poi quando prendete sulla mano, tanto anche se i comandi sono on-off, 0, 100, non vi interessa. Me l'avete chiesto in tanti? Non è nulla di difficile, questi qua sono semplici interruttori a levettina da 12V alimentati con la batteria del trattore. Là c'è un pacco di solenoidi elettroidrauliche che potete acquistare da qualsiasi revenditore di prodotti oleodinamici. Bene, partiamo, abbiamo già parlato fin troppo. Eccoci qua. Gli facciamo il pieno che è un po' scarso e gli mettiamo anche l'addittivo quasi quasi. Con questo addittivo ragazzi sono almeno 50-60 cavalli in più. Lo sapete, ormai l'avevo messo anche nel Blizzard, ne ha guadagnato un sacco. Ovviamente sto scherzando ragazzi, vi prendo in giro, però c'è qualcuno che ci potrebbe credere perché mi seguono anche tanti giovanissimi. Questo prodotto ragazzi è un addittivo che contiene dei componenti che puliscono gli iniettori, la camera di scoppio e così via. Insomma il motore dovrebbe rendere di più perché è più pulito, non ci sono corpi estrani negli iniettori, non c'è niente intasato. Quindi dovrebbe pulire appunto, il motore dovrebbe rendere un pochino di più e mantenersi nel tempo. Qua il serbatoio tiene poco, tiene una cinquantina di litri e quindi si fermerà subito, penso. Era quasi vuoto però. Ok. Fermi. Qua svuotiamo il tubo. Ovviamente se non si svuota dopo perde dalla pistola. Ok. Aspettiamo un attimo che si svuoti bene. E... A posto. A posto. E... Chiudiamo. Il trattore è sicuramente da pulire però lo sto usando nel fango praticamente. Avrà modo anche lui di essere pulito questa primavera. Qua prima di partire riempio un attimo la caldaia, se no stasera ho il culetto al fresco. Eh perché ragazzi è fine del mese, fine del mese di dicembre e fa abbastanza fresco. Ecco, ha fatto caldo, ha fatto due o tre giorni di freddo, cos'è stato? Eh forse a inizio del mese, il 10 nel mese, dopo basta, ha fatto delle minime di undici gradi, non c'era più il gelo e adesso che a fine mese è tornato il gelo. Dei bei pezzi di noce e castagno. Ragazzi mettete 2000 like e vi faccio un video su legna, caldaia, la cariola della giondire e così via. Qua la legna può bastare, meglio farla lavorare e riempirla spesso. Perché se no dopo si ferma, va in mantenimento e si sciupa la legna. Qua a posto si può partire. Che poi no ragazzi, la caldaia, il fuoco, fa tutto più clima natalizio, anche se Natale è già passato. Vi faccio comunque tanti auguri di buon Natale, ma alla fine del video vi auguro anche un buon anno. E niente, qua partiamo. Non c'è molta strada da fare perché dobbiamo pulire quel fosso lì, quindi non è che facciamo i chilometri. Qua accendiamo, questo qua comanda il ventilatore, la ventola del radiatore dell'olio idraulico del braccio. Qua bisogna farlo tutto in retro. Ok, allora così si accende il rotore. Perfetto. E mettiamo la presa di forza a 540 giri. Si vede tramite questa scala punto rossa. Grazie. 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 Ragazzi, io molto onestamente non ne posso più, non ne posso più di questo fango perché non si può fare niente, non si può andare giù a pulire e quindi bisogna accontentarsi di pulire fin dove si arriva stando sul cemento in questo caso perché c'è troppo bagnato. Ho fatto carreggiate e niente, qua copriamo così occhio non vede e finite voi la frase. Vabbè ragazzi, meglio riuscire a fare fin dove si riesce e fermarsi lì. Oltre che in campo ci sfondiamo anche qua, però qua ragazzi è meglio non rischiare perché ci si ribalta dentro nel fosso. Allora facciamo fin dove riusciamo, ovviamente la rasatura qua non sta venendo benissimo perché potete vedere voi che la riva è molto sconnessa e oltretutto ci sono un sacco di sassi quindi bisogna stare attenti. Allora facciamo fin ourselfi. Allora facciamo fin. qua c'è la mia stazione meteo ragazzi non l'ho non l'ho tirata giù per fortuna beh insomma dai c'era c'era abbastanza spazio per passare se volete approfondimenti andate a vedere il video che vi lascio qua in alto a destra che è proprio dedicato alla stazione meteo che oltretutto sta funzionando molto bene nonostante pioggia gelo neve va alla grande comunque qua ragazzi abbiamo finito abbiamo finito siamo arrivati dove siamo riusciti arrivare la la riva è molto più larga di conseguenza non sono riuscito a fare il pezzo in fondo come in questo punto però ci dobbiamo accontentare perché sennò facciamo dei disastri ci sfondiamo ci ribaltiamo quindi ragazzi attenzione tanto una riva di una corte e in primavera si potrà fare molto meglio adesso ovviamente avrò da fare anche il pezzo da quell'altra parte e però tutto il giro là attorno ci sono quei pioppi pini o pigne chiamatele come come volete come come preferite ragazzi adesso andiamo là che magari vi metto la gopro sul sull'attrezzo per vedere meglio il lavoro che faccio attenzione a 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.